E' stata prorogata al 31 gennaio 2017 la sezione della mostra Transition l'umanità in transito, ospitata a Palazzo Lascaris. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza in considerazione della rilevanza dell'iniziativa e del successo finora riscosso dall'esposizione. Nella prestigiosa cornice dell'atrio d'onore della sede del Consiglio regionale del Piemonte sono state installate tre opere dell'artista spagnolo Victor Lopez González Euduardo, Human Capital e Gold Euro, che fanno parte del progetto artistico promosso dall'Associazione Martini Arte Internazionale e curato da Patrizia Bottallo, che invitano a una riflessione su temi sempre più al centro dei processi moderni.